Autorità, Avvocate, Avvocati, Signore e Signori. Ringrazio il Consiglio nazionale forense sentitamente per l'invito, orgoglioso come sono naturalmente di aver esercitato fino a non molto tempo fa la professione di Avvocato, dalla quale sono solo temporaneamente distolto per l'incarico istituzionale che ho l'onore di ricoprire. Avvocatura e magistratura sono entrambe protagoniste della giurisdizione, chiamate ciascuna per la propria parte al Comune compito di offrire ai cittadini, unitamente all'efficienza, rispettabilità e autorevolezza del sistema giudiziario. In questa direzione appare opportuno rendere ancora più stringente ed operativa l'osmosi istituzionale che pure già esiste tra Avvocatura e magistratura. La riforma della giustizia ormai avviata e lo sforzo congiunto del Ministero e del Consiglio superiore per la sua attuazione non possono prescindere dal contributo partecipe dell'Avvocatura. È in corso di attuazione l'integrazione della composizione dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore con i fecondi apporti professionali esterni anche dell'Avvocatura. Di grande attualità, inoltre, il ruolo degli Avvocati nella partecipazione alle deliberazioni dei Consigli giudiziari, anche relativamente alle valutazioni di professionalità. Questa importante novità ordinamentale richiederà non solo lo sviluppo di opportune sinergie, secondo lo schema della collaborazione nella separazione istituzionale dei ruoli, ma altresì una profonda riflessione sulle gravose responsabilità incombenti anche sull'Avvocatura. Nell'ambito delle responsabilità, al centro del sistema oggi, nella contemporaneità, si pone la responsabilità sociale del magistrato, la cui prima essenziale declinazione attiene alla sua autentica indipendenza in quanto effettivamente impermeabile alle influenze esterne. Queste influenze sono quantomai insidiose e molteplici perché, ben oltre le classiche ipotesi per vero isolate di patologica prossimità dei magistrati ad una delle parti incontesa, si misura nella capacità del magistrato di resistere alle pressioni esterne ed una serie di potenziali interferenze non sempre di immediata percepibilità, anche per il magistrato stesso. Il problematico rapporto tra legge e interpretazione nella complessità dell'ordinamento multilivello e della iperproduzione normativa, come ci diceva la Presidente Cassano, ma anche la seduzione valoriale dell'interpretazione soggettiva, quando non ideologicamente orientata, dietro il vero del costituzionalmente conforme, sino ad arrivare a forme di disapplicazione di disposizioni legislative discutibili persino da parte delle giurisdizioni superiori, come ha ben ricordato il Presidente della Corte Costituzionale. La molteplicità esponenziale delle stanze di giustizia in una società sempre più conflittuale, prive della mediazione solidaristica e centrata sulle spinte egoistiche di ciascuno, anche questo può essere causa di interferenze sull'autonomia e impermeabilità del magistrato. I guasti della giustizia mediatica, dove si smarrisce il senso autentico del processo come ricerca condivisa della verità, per la suprema garanzia dei diritti, della onorabilità, della libertà, dove talora persino la vittima, lo dico col massimo rispetto, è fatalmente portata la logica mediatica ad assumere un ruolo improprio, con il giudice e il PM sottoposti a notevoli pressioni. Viene da chiedersi se l'indipendenza del magistrato, o meglio dire, se indipendenti per il magistrato, si nasce o si diventa. Alla domanda insidiosa si potrebbe rispondere che l'effettiva indipendenza, declinata in senso non solo ordinamentale, ma protesa al valore dell'indipendenza di giudizio del giudice, è questione complessa che affonda certo nei tratti personali e caratteriali dei singoli, ma anche nel corredo culturale e professionale. Ebbene, l'avvocatura è certamente protagonista di questa sfida, poiché la garanzia dell'effettiva indipendenza del magistrato la riguarda assai da vicino. È un impegno culturale comune che deve unire magistratura e avvocatura. E' infatti primario, ritengo, compito dell'avvocatura che il corpo della magistratura, dare il proprio contributo, a che il corpo della magistratura sia non solo professionalmente attrezzato, ma anche autenticamente indipendente da ogni forma di moderno condizionamento della funzione. Peraltro, il tema della competenza professionale riguarda evidentemente anche l'avvocatura e ciascun avvocato. Alla definizione di un modello culturale di magistrato all'altezza dei tempi, autenticamente terzo indipendente nel senso che ho poc'anzi chiarito, può solo contribuire un'avvocatura che faccia della rigorosa competenza professionale la propria cifra distintiva. Infatti il contraddittorio non è solo un astratto valore costituzionale che si acquieta nella mera presenza della contesa di due avversari in posizione di parità dinanzi al giudice terzo e imparziale. Tutte le parti devono essere all'altezza del valore costituzionale del contraddittorio. Il contraddittorio si riempie di contenuti e soprattutto qui emerge la funzione essenziale dell'avvocato se alimentato dalla presenza nel processo di avvocati competenti. solo così la prova si forma in concreto nel contraddittorio delle parti. Solo così il contraddittorio, per meglio dire il dire contro l'ipotesi della pubblica accusa, può fare breccia ed avere efficacia persuasiva agli occhi del giudice. I diritti in gioco nel processo, tante volte cruciali per la vita delle persone, esigono dunque magistrati preparati, indipendenti e irreprensibili, ma anche avvocati professionalmente ed ontologicamente all'altezza del loro delicato compito. A tal proposito, un aspetto non secondario del tema della competenza va anche ricercato nell'autodisciplina dell'avvocatura sul versante della specializzazione professionale. Lo ha ricordato anche il Presidente. Va certamente proseguita e perseguita la riflessione sugli albi di specialità in funzione dell'esercizio trasparente della professione a tutela dei cittadini che chiedono servizi professionali all'altezza delle loro aspettative e hanno diritto di conoscere il percorso professionale e le competenze specifiche dell'avvocato. Del resto è preciso dovere dell'avvocato rappresentare adeguatamente il proprio percorso professionale di tipo specialistico, nell'ottica del definitivo superamento della figura professionale dell'avvocato generalista, capace di districarsi indifferentemente in ogni branca del diritto, in modo tale da assicurare la effettività della qualità della prestazione professionale, richiesta come requisito di diligenza e senza l'articolo 12 del codice deontologico forense. Insomma, la complessità del diritto moderno richiede tanto magistrati preparati quanto avvocati specializzati in specifici settori di competenza avanti le giurisdizioni di merito o in prospettiva, anche questo è un aspetto problematico, nelle giurisdizioni di legittimità. Questo tema ne richiama uno qui solo accennato ancora più vasto e di fondo, che richiede davvero un innovativo approccio culturale dell'avvocatura, come essa cioè si pone di fronte alla valenza sistemica della decisione giurisdizionale. In una moderna società del conflitto, l'efficienza del sistema giustizia è il traguardo indefettibile per assicurare la decisione, che rappresenta di per sé un obiettivo da raggiungere, in un sistema di relazioni umane e economiche sempre più complesse integrate. Ebbene l'avvocatura deve insistere nell'offrire il proprio contributo concreto all'efficienza del sistema, favorendo la semplificazione, ovviamente nel rigoroso e puntuale svolgimento del mandato defensionale in favore del proprio assistito. In altri termini, l'avvocatura, nella responsabilità istituzionale che giustamente rivendica, deve avere la capacità di distinguere le garanzie fondamentali, diretto precipitato dei principi costituzionali e che sono inderogabili, primo tra tutti quello della presunzione di innocenza, da una visione di non contrasto ad intralci formalistici al corso del processo verso la decisione. Questi ultimi possono assumere il sapore di un garantismo iperbolico, per dirla concordero, e divenire una causa dei ritardi della risposta di giustizia in controtendenza rispetto all'obiettivo di efficienza del sistema. La ragionevole durata del processo è un dettame del Costituente che impegna tutti gli attori della giurisdizione. La decisione, quella che stabilisce ragioni e torti, deve al fine arrivare e quanto più tempestiva e corretta, se si vuole, come tutti vogliamo, giustizia. I valori della terzietà e del contraddittorio sono anche valori dell'Avvocatura, ma essi non possono non essere messi a sintesi se non con il contributo responsabile dell'Avvocatura, ferma nella difesa delle garanzie essenziali all'inveramento di quei principi fondamentali da un lato, ma dialogante sugli istituti suscettibili di impattare negativamente sull'efficienza del sistema dall'altro. Ho concluso. Rinnovo l'auspicio sentito affinché Avvocatura e Magistratura, ma anche Avvocati e Magistrati, sappiano sempre avere il senso profondo della loro responsabilità, in quanto comunità di donne e uomini del diritto, di fronte alle forti aspettative del Paese, per un sistema giustizia all'altezza della nostra civiltà giuridica. Grazie ancora al Presidente Greco per l'invito, a lui e al Consiglio Nazionale Forense che rappresenta, l'augurio fervido di buon lavoro a nome del Consiglio Superiore della Magistratura e mio personale.